E ragazzuoli benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi oggi vi porto un video spettacolare perché finalmente dopo tanto tempo ho deciso e mi sono impuntata nel superare uno dei miei tre record personali di kill e oggi ragazzi vi porto un video in solo. Perché sì ragazzi finalmente ho superato i miei record di kill in solo fatto ovviamente in arena. Come sicuramente noterete da subito ragazzi in questa partita non ho giocato con il mio account principale quindi quello che si chiama appunto Coratomist ma ho giocato con un mio secondo account che utilizzo ogni tanto per magari trollare in duo con riempimento o in squad con riempimento oppure semplicemente per giocare alle arene perché diciamo che giocare alle arene col secondo account rispetto al primo account la coda di attesa di entrare in una partita E' tipo di 10 secondi mentre col primo account principale di 15 minuti cioè è ingiocabile. Quindi sì ragazzi mi sono divertita col secondo account ho superato i miei record in solo e ovviamente ragazzi non vi dico di quanto perché lo scoprirete da soli voi stessi in questo video ma io vi invito da subito a scrivere sotto questo video quindi nei commenti il numero delle kill che ho fatto prima ancora di vedere il video quindi non barate scrivete adesso il numero delle kill che secondo voi ho fatto e chi avrà indovinato metterò un cuoricino. Inoltre ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e iscrivervi al mio canale e vi ricordo inoltre di utilizzare il mio codice creatore su Fortnite. Qual è il mio codice creatore ragazzi? Come? Ah! Croatomist ragazzi! Supporta creatore Croatomist nell'item shop. Tutti coloro che metteranno e inseriranno il mio nome nel supporta creatore di Fortnite se fate anche una story su Instagram dove mi taggate io ragazzi condivido ogni singola storia e ogni singola foto. E se lo scrivete qua sotto nei commenti un cuoricino per voi. Quindi ragazzi guardatevi questo fantastico video con questo bellissimo record e spaccatelo di like e buona visione ragazzi ribelli. Ok basta fare la scema ciao. Ma la tilted è piena secondo voi ragazzi? È un risk andare a tilted? Oh no. Boh io provo sti cazzi. Why the fuck not? Mi serve un bump. Se serve un bump sono a posto. Cheat raga. Ecco lo è il bump. Cheat raga. Le sgomme prien. Stavo provando a buildare ma non mi buildavo. Ho detto ma perché non mi builda? Ma perché non mi builda? Ah vero. Non posso buildare. Maldito io dei puta puta mierda maricon. Non posso buildare ma non mi builda? Non posso buildare ma non mi builda? Grazie. Una è appena entrato. Oppure è appena uscito. Che non è appena entrato. Non è appena uscito. Bello start, ragazzi, questo. Mamma mia. Ottimo start. Ora ho una skin seria. Guarda che skin bella. Mamma mia. Guarda come flexa. Guarda come flexa. Ora prendi rift e vado a cercare gente. Ah, c'è una. Allora, alla ricerca di personcine e personcelle Il de-block non ci sarà nessuno Pleasant sarà vuota Credo, non lo so, vediamo Forse Pleasant 2 Player, cioè, dai Almeno uno E infatti Ero la del teletubbies Ero la... No, per favore, amore, non lo fare Dove, 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 dove Ok, sparami di nuovo, ok Mica, mica, mica l'avevo capito Eh, sono intelligente però, ragazzi, eh Allora, qualcuno deve uscire per forza da qua D'obbligo E che mi spara Dove sei? Dai, sparami di nuovo Ok, l'ho visto Anche se fai dare qua, mamma mia I see you, my friend Ciao, mare mio Qualcuno andrà al drop sicuro Eh, infatti Eh, infatti, 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 infatti Ok, si è messo poi a bordo safe Ok, insomma Ok, insomma italy fan come essere un fan nostro ragazzi allora dove potrebbero essere gli altri player ok uno è qua alti player dove potrebbero un equa io vado crocciato perché posso oh my god surprise mother fucker uno è qua qui c'è un cecchino che mi sta svegliendo da prima ok 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 Grazie. Grazie. E' per far sento gli alberi questo. Posso capire quale albero. Grazie. Che easy game, cazzarola.